Rispondo a una domanda che molti di voi mi hanno posto tantissime volte Alessandro ma come hai cominciato? Alessandro ma come sei entrato in questo mondo? Alessandro eccetera 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 Allora io ho risposto anche su Filmmaker Channel più di una volta ad alcune di queste domande però a un certo punto devo dire mi è venuta voglia di scrivere un libro proprio su questo e questo libro che si intitola Per soldi e per tv sto facendo una evidentissima pubblicità a questo libro che mi è costato un po' di fatica beh qui c'è raccontata tutta la mia vita sul set la mia vita perché dovete pensare che io sono partito dall'analogico per finire poi al digitale al digitale già vent'anni fa c'era il digitale, 15 anni fa siamo partiti dalla pellicola per arrivare ai numeri, al numerique come dicono in Francia ecco questa esperienza che io ho avuto, tutte queste esperienze pensate tutti i personaggi che ho incontrato pensate il mondo nel quale ho girato in lungo e largo da un paese all'altro i set che cambiavano, le lingue che cambiavano è tutto raccontato in questo libro ed è raccontato devo dire pensando proprio a voi non so se voi mi credete però mi piacerebbe che mi credeste perché ho proprio pensato che era un libro che poteva e doveva essere dedicato a un giovane filmmaker un giovane filmmaker che inizia a lavorare e che forse può anche perdersi d'animo se voi leggete il libro ebbene voi vedete che ho preso tante di quelle batoste nella mia vita tante di quelle batoste però non ho mai mollato e ho continuato a fare avanti sempre 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 perché è così allora tanti di voi che a volte mi scrivono delle lettere che sono un po' disperate perché dicono vedi sono andato lì però non l'hanno visto eccetera e io oggi mi viene proprio voglia di dirgli guarda leggiti questo libro perché vedrai che ognuno di noi cioè tutti quelli come me come voi che lavorano con la creatività che lavorano con tanta passione dentro purtroppo certe delusioni le devono anche avere però se non mollano possono anche avere delle grandissime soddisfazioni e sono delle soddisfazioni impagabili ecco io ho raccontato questo in questo libro e poi me lo sono pubblicato anche da solo ecco in modo tale che ci potevo mettere dentro anche le foto che volevo io tutte le foto che mi piaceva che mi ricordano questi momenti a volte storici proprio di questa della vita di una persona che è passato vi ripeto dall'analogico al digitale quindi dalle camerone che pesavano 20 chili alle camerine che oggi sono piccole piccole e te le metti anche nel nei bottoni della camicia insomma ecco allora io vi invito ad andare su Amazon fra l'altro se andate su Amazon potete anche leggere insomma le prime pagine di questo libro gratuitamente e poi decidere insomma se vederlo o meno però a questa domanda che mi avete sempre fatto questa volta ho risposto Alessandro come hai cominciato leggiti il libro aspetta un attimo voglio anche dirvi aspettate un attimo voglio anche dirvi che nell'ultima pagina di questo libro io ho pubblicato la mia email personale quella privata in modo tale da stabilire con ognuno di voi anche un rapporto personale e un rapporto privato e questo mi è sembrato doveroso ci vediamo ci vediamo come sempre su Filmmaker Channel a presto a presto